Siamo alle battute finali di questa campagna elettorale un po' al veleno. Cosa si sente di dire ai suoi concittadini per domenica la giornata del ballottaggio? Di andare a votare per me, di andare a votare per la mia coalizione, perché da lunedì cambierà molto Aquariano, ma non in peggio, in meglio, perché saremo sicuramente un paese più tranquillo, più normale, più sereno e verranno spazzati tutti questi veleni che stanno caratterizzando questa campagna elettorale. Sinceramente non ne possiamo più di fake news, di sondaggi falsi che vengono addebitati a noi, di disegni su manifesti che vengono addebitati a noi, di situazioni che ogni cosa, come ho già dichiarato ieri, pare che siamo anche responsabili dell'attentata alle torri gemelle di 15 anni fa. Qualiano non merita questo, Qualiano merita un voto che sicuramente domenica sarà pulito, questo lo tengo a precisare, perché riteniamo che le forze dell'ordine dalle vicende di domenica 10 giugno saranno sicuramente allertate e attenzionate, sarà un voto serio, sarà un voto bello, sarà un voto sereno, così come la nostra coalizione, così come la mia persona, così come la persona dei candidati eletti e quelli che non saranno eletti. Qualiano vivrà sicuramente un futuro migliore nei prossimi 5 anni. Candidata Sindaco Ludovico De Luca, siamo a poche ore dal ballottaggio di questo turno elettorale, una competizione elettorale senza esclusione di colpi da parte dei due competitor. Ma non da parte dei due competitor, semmai da parte di un competitor, il quale piuttosto che pensare al contenuto ha pensato a diffamare l'avversario, in questo caso a me, con delle bugie che mi hanno anche visto costretto a denunciare. Qualcuno dei loro attivisti è anche un organo di stampa che è molto vicino a loro. Quindi una campagna elettorale che ormai giunge alla fine, quindi bisogna invitare i cittadini a votare, votare per lei in questo caso, che si candida a guidare per i prossimi 5 anni la città. Che cosa chiederà agli elettori? Intanto dobbiamo dire che in generale dovrebbero darsi una calmata a tutti quanti, perché io ho subito anche aggressioni fisiche in questa campagna elettorale, che di sicuro non fa onore alla politica. Io spero di essere eletto o rieletto per continuare quello che abbiamo fatto. Quale anno in questi ultimi 5 anni è cresciuta? Non sono io a dirlo, ma sono gli stessi concittadini, quindi sono sicuro che apprezzeranno il nostro modo di amministrare e premeranno la nostra coalizione.